Buongiorno a tutti cari telespettatrici e cari telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa del mattino. Buon inizio settimana a tutti. Oggi è lunedì 17 di febbraio 2014. In diretta 7.45, tra poco i giornali. Prima diamo un sguardo al calendario, vediamo il santo del giorno. Oggi è Santa Marianna, il sole è sorto alle 7.05, tramonterà alle 17.39. Adesso invece, come dicevo, andiamo a vedere il tempo. Allora, tempo ce ne siamo accorti tutti ieri per chi è andato al carnevale, poi lo sentiremo anche dai titoli dei giornali. È stata una giornata davvero primaverile, sembrava quasi il carnevale estivo, piuttosto che quello invernale. Stamattina alle 7.30 la temperatura era di 17 gradi addirittura. Quindi, insomma, fa davvero caldo. Allora, primaverile al centro-sud, rovescio invece al centro-nord. Le previsioni del tempo dal sito ilmeteo.it. Oggi, come vedete, sulla nostra regione, la regione Marche, cielo variabile. Non c'è granché da segnalare. Per domani nuvole, martedì 18, mercoledì 19, ancora variabile, mentre al centro-nord, Toscana, Emilia-Romagna e tutte le regioni del nord saranno sotto l'effetto del maltempo. Queste dunque le previsioni, dicevamo, del carnevale. Allora, il carnevale, area di primavera sul carnevale di Fano. Questo è il titolo del resto del Carlino. Il tempo bello attira almeno 50.000 persone alla prima sfilata del 2014. Mentre il Corriere Adriatico, sulla pagina di Pesaro, titola Il sole bacio al carnevale che vola a quota 40.000. Sontuoso spettacolo, ricchissimo getto e un inatteso pienone. Sono fotografie che parlano evidentemente da sole, mentre i bambini, affascinati anche dalle maschere dei nonni, in testa alla sfilata della casa di riposo Famiglia Nova, una signora, pensate, di 103 anni. Il messaggero, sulla pagina giorno e notte, carnevale, una festa per 40.000. Fano un successo, il primo dei tre corsi mascherati, grazie al bel tempo e ai nuovi carri che non hanno deluso le aspettative. E' piaciuta anche la parata dei nonni. Poi sulla pagina di giorno e notte, dialetto tutto da ridere, torna il Politeama e il teatro Cianfrusaglia, questa sera, domani e dopodomani, con replica il 24 febbraio, di scena Lega e il sumar dove vuole il padron, commedia in due atti scritta e diretta da Lucio e Fabrizio Signoretti. Poi però c'è anche la politica con queste primarie, primarie con l'invito alla vigilia a non andare a votare da parte del sindaco Luca Ceriscioli, escluso dalla corsa per diventare segretario regionale del Partito Democratico. Di questo parlano i quotidiani questa mattina. Voto basso, affluenza molto bassa in provincia di Pesero e Urbino. votano in 2000, Gostoli parla di una carnevalata, mentre Francesco Comi è stato eletto appunto nuovo segretario regionale. La frattura però appare insanabile. 2080 votanti, meno del congresso provinciale, dove a recarsi alle urne sono stati 2400, con una differenza sostanziale però che il congresso provinciale era aperto solo agli iscritti, mentre questa volta erano aperte a chiunque le votazioni. Su 2080 votanti in totale, 1628 hanno votato Francesco Comi, il vincitore appunto, mentre 377 hanno scelto Fioretti e 75 sono state le schede bianche. Sull'altra pagina del resto del carlino, che si parla del PD in pezzi, l'astensionismo sfonda soprattutto in città, votano in 313, a Villa Fastigi in soltanto 11, seggio sempre deserto, il sindaco Ceriscioli esulta e dice Renzi a questo punto dovrebbe prendere atto che nelle Marche sia eletto un segretario davvero dimezzato. Questa dunque la politica, ma la cronaca, la cronaca ci porta sulle montagne, sulle cesane, dove un forsempronese di 40 anni, la vista brutta, dramma in mountain bike, quarantenne cade e batte la testa, soccorso da Onelli Ambulanza e portato in Ancona, Francesco Giovannelli, 40 anni, sposato di Fossombrone, intorno alle 11 di ieri mattina, è caduto con la sua bicicletta in un sentiero in discesa lungo le Cesane tra il comune di Fossombrone e quello di Urbino, mentre SEL è contro l'ospedale unico e chiama alla mobilitazione di massa. Lo sport invece sul resto del carlino, per andare a vedere che cosa ha fatto il Fano e la Vispesaro, il Fano ha pareggiato 0-0, un derby alla Camomilla, quello con la Fermana, Fermana che è più intraprendente nella ripresa, reclama due rigori, ma nulla di più. Fermana 0, Fano dunque 0, mentre risultato incredibile in casa a Pesaro della Vis, Vis che vince 8-0 contro la squadra del Boiano, aggiorna le statistiche, la Vis col Boiano, i bianco-rossi giocano a ritmo campionato e al tiro al bersaglio, quaterna di Costantino. Sulla pagina di Pesaro invece è stato un inizio galvanizzante, tantissime persone alla presentazione della candidatura alle primarie di Rito Briglia, è un candidato sindaco in corsa da indipendente per le primarie del centro-sinistra, Rito Briglia il giorno dopo la presentazione della sua candidatura nella sala della biblioteca a Baia Flaminia a Pesaro, guarda la data delle primarie, anticipa già quella che potrebbe essere una iniziativa pubblica in vista della vigilia del voto. E poi la cherela ancora tra, sapete che a Pesaro i 5 Stelle sono divisi, insomma si sono spaccati in due, cittadini a 5 Stelle, adesso dicono siamo noi i veri grillini, mentre c'è il pienone, c'è stato il pienone in pescheria, movimento a 5 Stelle con l'onorevole Fico fa il pieno di interesse, tre simpatizzanti, entusiasme e certezze di vittoria, e dicono Ricci, Matteo Ricci che è il favorito, ovviamente il sindaco, il presidente della provincia uscente, Ricci non ci spaventa. E adesso andiamo a vedere la pagina di Pesaro invece del messaggero, dove in apertura c'è la notizia che appunto del nuovo segretario regionale del Partito Democratico è Comi, al consigliere regionale renziano il 77%, al lavoro per non tradire, dice lui, le aspettative. Quasi 12 mila alle urne, l'escluso Ceriscioli dice e parla di affluenza flop e di un congresso delegittimato. Si apre la caccia per trovare la basilica sepolta, a Fano questa mattina c'è un sopralluogo, alle 9.30, dei consulenti dell'Università Politecnica delle Marche, esperti in georadar, nell'ambito del progetto Archeofano Vitruvio, finanziato dalla provincia, che consentirà di ridefinire la pianta archeologica della città, andando anche alla ricerca dei possibili resti della basilica di Vitruvio. A centropagina la fotografia è per il basket, domenica derby con la Sutor, ora a più 4, VL nessun miracolo però a Siena, niente da fare per la VL dell'Agnello, sconfitta 80 a 70. Ancora, dalle pagine del messaggero, a Lido di Fano inizia la raccolta domiciliare, quindi una raccolta sempre più vicina, un porta a porta nei quartieri di Fano che si sta ampliando. Fra una settimana esatta, ovvero lunedì 24 febbraio, Aset avvierà il servizio anche nella zona del Lido Alto e per informare i residenti ha organizzato un incontro pubblico questa sera alle ore 21 in un ristorante che è il Porto Verde in via Mascagni 7-9. Abbiamo visto la pagina del Carnevale e a questo punto non ci resta, abbiamo letto tutto, oggi come sempre c'è tanto sport da leggere essendo lunedì, quindi noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che questa sera di 20.30 è il nostro consueto appuntamento con il telegiornale e su internet invece, se avete la possibilità di consultare internet anche durante la giornata, fateci un salto perché il nostro sito, che tra l'altro è nuovo, è sempre aggiornatissimo. Grazie, buona giornata e a stasera. Grazie, buona giornata e a stasera.